eccoci qua sono le 6 di mattina siamo in partenza da UNS via Desambois quindi la mia abitazione la mia nuova dimora la mia nuova residenza e ci dirigiamo verso l'università di Savigliano facciamo vedere il panorama vedete non c'è ancora nessuno la sua ci sono le montagne e documenterò queste mie giornate di lunghissime trasferte ed eccoci qui arrivati alla stazione di Huls sono le 6 e 20 e come vedete nessuno a parte il sottoscritto che credo di essere l'unico abbonato su questa tratta ferroviaria eccoci a Collegno dopo essere stati a Savigliano sono le 14 e 30 e la giornata continua il cielo su Collegno è questo e tra poco dopo aver svolto l'attività di tutor al Gincana 2024 per il tirocinio di scienze della formazione primaria presso il polo di Savigliano mi appresto a iniziare il mio laboratorio dalle 16 alle 20 presso il polo universitario del corso di scienze della formazione primaria della formazione primaria del polo di Tolegno ma la pandemia però del polo di Tolegno Siamo in arrivo a San Bertron, vi raccomandiamo la potenza della discesa dal treno. 20.30 e sto camminando verso casa, mi è sceso dalla stazione. Comunque abbonato delle ferie dello Stato, rientra a casa. Eccoci qua che torniamo a casa. Sono quasi le nove e a piedi arriviamo in via de Zambroa. Giornata finita. Giornata finita. Giornata finita. Giornata finita. Giornata finita. Giornata finita. Grazie a tutti.